A Venezia per le tue contravendite, Venice Immobiliare Cera, agenzia leader. Benvenuti al meteo. Tempo ancora buono sul nostro territorio anche se la pressione atmosferica torna a diminuire. Il dettaglio di martedì 8 novembre. Sul Veneto sarà soleggiato con cielo poco nuvoloso. Avremo maggiori annuvolamenti nella seconda parte della giornata. Tuttavia nelle ore più fredde saranno possibili foschie e locali nebbie in pianura e nelle valli. Precipitazioni assenti. Temperature senza variazioni minime tra 0 e 8 gradi. Massime invece comprese tra i 13 e i 16 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo in genere poco nuvoloso per velature progressivamente più estese. In serata ulteriore aumento della nuvolosità. Temperature minime sui 6-11 gradi. Massime intorno ai 15-17 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà soleggiato anche qui con nubi alte a tratti estese e marcata escursione termica. Avremo temperature minime infatti intorno a 0-3 gradi. Massime infine intorno ai 15 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione e arrivederci. A Venezia per le tue contravendite Venice Immobiliare Cera, agenzia leader.